Bene, stiamo andando alla grande, mezzo miliardo. Qui c'è un assegno che ti aspetta, con il tuo nome, per un valore di 500 milioni. Ma noi non vorremmo dartelo. Noi preferiremmo consegnartene uno ancora più consistente. E ti basta una sola risposta per aggiudicartelo. Dai un'occhiata alla domanda, rifletti pure con calma. Ricordati che non hai l'obbligo di giocare. Puoi decidere di andartene col tuo mezzo miliardo. Ma questa è la tua domanda finale per aggiudicarti l'intero monte premi. La scelta spetta a te. Buona fortuna. La tensione è indescrivibile. Mi raccomando, rifletti con la massima calma. Se decidi di giocare, rischi di perdere una somma impressionante. 468 milioni, per la precisione. Non hai assolutamente alcun dubbio? Siamo arrivati vicinissimi alla vincita più importante. Adesso siamo ancora più vicini. Perché la tua risposta è esatta! Il miliardo è tuo! Sembra incredibile. Hai appena vinto un miliardo. Congratulazioni! Grazie! Grazie!